Cecilia e Ignazio serate in discoteca insieme dopo il grande fratello Ignazio e Cecilia programmano già serate in coppia. . Al centro del gossip ancora una volta la storia d'amore nata tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nella casa del grande fratello Vip. Il famoso reality show è condotto da Ilari Blasi e Alfonso Signorini su Canale 5. . Entrambi sono stati eliminati dalla casa più spiata d'Italia, a differenza di una settimana l'uno dall'altra. . Cecilia da settimane non ha più sensi di colpa. . Infatti, dopo aver troncato definitivamente la relazione con Francesco Monte si gode la nuova storia d'amore con Moser. A quanto pare Cecilia e Ignazio programmano già le serate in coppia. . La prima sarà il prossimo 16 dicembre 2017 per l'evento Happy Birthday Discoteca Donoma. . A confermare la notizia è stato il sito gossip.it. La relazione nata al grande fratello Vip li ha resi più popolari, proprio per questo sono in molti a volerli ospitare nei loro locali. . Cecilia e Moser si godono la loro storia d'amore lontano dalle telecamere. . Cecilia e Ignazio sono inseparabili da lunedì sera, sui social i fan postano scatti rubati della coppia. Durante il reality la coppia aveva più volte manifestato il desiderio di voler uscire per godersi finalmente il loro amore lontano dalle telecamere. .